La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouselow.it Eccoci, oggi parliamo di un evento veramente peculiare, cioè l'evento Hack the Dock, organizzato da Legal Hackers Roma e ne parliamo con il collega Massimiliano Nicotra, proprio tra i fondatori di Legal Hackers e poi i nostri ascoltatori già lo conoscono come un esperto delle nuove tecnologie. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao Elia. Buongiorno a tutti. Allora facciamo un po' un bilancio di questo evento che è stato il primo in Italia nel suo genere e si può già dire che è stato un successo da quello che ho visto, più di 190 partecipanti, dei numeri veramente incredibili. Sì, sì Elia, sono stati numeri incredibili. Abbiamo voluto provare a lanciare anche, come dire, un evento differente in questo periodo di webinar dove normalmente le persone interagivano in maniera abbastanza passiva, perché ovviamente il webinar è più quasi una lezione frontale. Abbiamo voluto in realtà fare qualcosa di diverso. È molto sfidante perché, come tu sai, gli hackathon normalmente richiedono almeno tre giorni in presenza di tutti coloro che partecipano alle varie challenge, invece abbiamo voluto farlo online, provare a farlo online. È stato un gran successo, soprattutto anche grazie, devo dire, al supporto e al patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali, che subito appena ha visto un'iniziativa, l'ha sposata anche per l'importanza dei temi che riguardano il legal design. Ci sono stati ben 198 iscritti, con circa un totale di 60 team partecipanti sulle tre challenge e sono stati tre giorni pieni di lavoro. Stancante però con grande soddisfazione. Lo scopo di questa iniziativa sul legal design era quello di andare a ripensare alcuni testi legali, quindi un'informativa privacy, un contratto, un atto giudiziario. I partecipanti si sono, diciamo, rivolti più a una tipologia delle tre rispetto alle altre? È stata più fortunata l'informativa privacy? Sì, è stata più fortunata l'informativa privacy, che era proprio la challenge che era stata lanciata dal Garante per la protezione dei dati personali, con la sfida di ridurre di almeno al 50% il testo, o meglio il contenuto, non il testo, il contenuto delle informative di una delle applicazioni o piattaforme più utilizzate in Italia, quindi erano liberi di scegliere i partecipanti quale andare a semplificare. In realtà anche il contratto ha avuto un discreto successo e per quello avevamo all'apertura dell'hackathon, quindi la mattina del primo giorno abbiamo proposto la semplificazione di un contratto di locazione abitativa, quindi un po' uno standard, perché l'obiettivo era quello appunto di cercare di creare dei documenti più facilmente leggibili e fruibili dal pubblico. E il terzo, l'atto giudiziario, un po' meno, ci sono stati però dei belli esempi e delle belle sfide, ma diciamo sì, il vincitore delle challenge è stato assolutamente l'informativa privacy. Sul lato giudiziario esistono già da tempo delle linee guida della Cassazione e del Consiglio di Stato per la brevità degli atti, cosa è emerso? Cioè queste linee guida che già esistono, sono già idonee a livello Liga Design o si può migliorare, non solo per i giudici, ma anche per comprendersi tra le parti? Sì, considera che le linee guida sono più dirette sul contenuto più semantico, quindi vanno più sul... come dire, sulla parte testuale. Il Liga Design aggiunge a questa parte testuale anche non solo una forma grafica, ma noi addirittura abbiamo liberalizzato, perdonami il termine, ma soprattutto per cercare che quest'agaton fosse proprio una vera e propria gara di idee, abbiamo liberalizzato il formato, quindi c'è chi addirittura ha presentato un video che cercava di spiegare, di rendere più fruibile l'atto legale, proprio per renderlo appunto più immediatamente riconoscibile, più immediatamente comprensibile all'utenza. Quindi sì, da una parte ci sono quelle linee guida, ma per dirti non solo sull'atto giudiziario, immagina la trasparenza bancaria per ciò che riguarda tutti i moduli che vengono somministrati presso le filiali o sulla banca nel momento in cui si vanno a stipulare dei contratti bancari. Anche lì ci sono circolari della Banca d'Italia che indicano come dovrebbero essere redatti andando addirittura sul contenuto grammaticale dell'atto, però il legal design in sé è qualcosa che va un po' oltre perché sfrutta non solo la parte testuale, ma ha un approccio anche di vero e proprio design, quindi utilizza anche elementi grafici che possono essere icone, diagrammi di flusso, anche la strutturazione iconografica del documento stesso, la strutturazione visuale del documento per aiutarne la comprensione. Diciamo che il 2020 è stato sicuramente l'anno del legal design perché è un ambito del quale si discute già da vari anni, ma quest'anno ho notato una maggiore concentrazione da parte anche di legali che magari in passato non se ne erano occupati e credo che sia passato il messaggio che il legal design non è una questione di decorazione, ma sia una questione di migliorare poi l'esperienza nell'utilizzo di documenti e da parte di chi li scrive impone un arrivare all'obiettivo creando dei percorsi nuovi. Hai visto delle soluzioni che evidenziano un percorso nuovo, proprio un approccio innovativo al testo legale tra i vincitori o tra i partecipanti? Sì, assolutamente. Devo dirti che l'impegno e anche la novità di approccio che abbiamo trovato, nonostante alla fine sia stato un hackathon, come dicevamo prima, tutto online, quindi anche con l'eventuale difficoltà dovuto anche dalla distanza che i partecipanti avevano tra di loro, sono state comunque proposte delle idee molto innovative e molto belle, soprattutto come soluzioni, ad esempio i vincitori, l'ex designer, hanno proposto di riformulare l'informativa privacy di TikTok, innestandola proprio nella piattaforma, cioè con lo stesso linguaggio della piattaforma, proprio per non creare quella separazione che spesso si ha tra il documento legale e invece il contenuto della piattaforma o del servizio che si sta utilizzando. Altre soluzioni, per dirti, molto simpatiche, molto carine, prevedevano delle formule grafiche con, per esempio su Amazon, con delle scatole, la tipica scatola di Amazon dove però aprendo la scatola si aggiungevano sempre più informazioni rispetto a quelle contenute nell'informativa. Ci sono state soluzioni che hanno utilizzato anche sistemi, ad esempio, di intelligenza artificiale per andare a reperire il contenuto delle informative privacy presenti sui siti online per poi quel contenuto riassumerlo e renderlo più fruibile, quindi scomponendolo in maniera che l'utente abbia subito l'informazione di cui necessita senza dover andarla a ricercare all'interno del documento testuale che normalmente conosciamo. Quindi sì, soluzioni nuove, soluzioni che favoriscono quella che è la trasparenza. Tu prima dicevi che il legal design ha avuto molto successo in questo anno, secondo me finalmente ci si sta rendendo conto che sui servizi digitali il requisito della trasparenza è un requisito essenziale. Ma questo non lo dico io perché non ho l'autorità per dirlo, ma ce lo dice sia la regolamentazione europea, il GDPR che della trasparenza oramai ha fatto un principio all'articolo 5 anche ben fissato, ma non solo, anche tutta l'altra normativa. Se pensi al regolamento 1150 del 2019 sulle piattaforme B2B, anche lì è prevista proprio una maggior trasparenza addirittura non verso il consumatore che era il soggetto che tendenzialmente si andava a tutelare, ma verso dei soggetti commerciali. Quindi l'importanza, anche i nuovi regolamenti che sono stati proposti, il Digital Market Act e il Digital Service Act pongono molto il punto sulla trasparenza, sulla necessità di trasparenza dei servizi. Sì, effettivamente capire la logica di algoritmi e sistemi di scelta, poi di motori di ricerca di queste piattaforme, sicuramente il Legal Design aiuta anche i contraenti business a capire come possono posizionare i propri prodotti, come dicevi. È stato questo 2020 l'anno, come sappiamo, del lavoro a distanza. Secondo te è una formula questo dell'Hackathon a distanza di successo? Pensate di riproporla in futuro oppure di creare magari una formula in presenza o mista? Guarda, allora, come dire, l'Hackathon a distanza ha avuto il pregio di poter essere svolto, di allargare la partecipazione. Ti spiego il perché. Noi abbiamo avuto, appunto, come dicevamo, 198 iscritti. Molti di loro abbiamo creato un canale Slack apposito con tutti i sottocanali, con le challenge e tutti i sottocanali per i team. Poi le persone si sono autonomamente organizzate per lavorare, appunto, a distanza. Molti di loro mi hanno detto durante questi tre giorni che se non fosse stato a distanza non avrebbero potuto partecipare. Questo perché gli hackathon, sappiamo bene, vengono pensati in una tre giorni full immersion chiusi in un posto fisico. Beh, questo per chi lavora già diventa molto difficile riuscire a organizzarsi in questo modo. Ma soprattutto molti di loro mi hanno detto che non avrebbero potuto non solo partecipare fisicamente, ma anche, come dire, interagire con i membri del loro team. Noi avevamo team dove una persona era a Palermo, una a Milano, una a Roma. Quindi l'abitudine che pian piano stiamo acquisendo nell'utilizzo degli strumenti a distanza è stata positiva anche per questo. Sicuramente lo vogliamo riorganizzare il prossimo anno, da capire se farlo ancora tutto online oppure fare una parte in presenza, una parte online, perché anche questa potrebbe essere una soluzione mista, tra virgolette, ibrida, che riesce ad allargare comunque la platea dei partecipanti e a mantenere questa organizzazione abbastanza snella che siamo riusciti ad avere. Tra le prossime iniziative di Legal Hackers ci dai qualche anticipazione? Beh, ne abbiamo tantissime. Noi sicuramente riprenderemo adesso i vari webinar che normalmente facciamo, quelli tradizionali. Non so se sai, noi abbiamo fatto anche una nostra DFO, quindi una Decentralized Flexible Organization, che sarebbe sostanzialmente, per dirla in maniera più semplice possibile, la gestione dell'organizzazione su blockchain, quindi con dei meccanismi di voto eccetera eccetera. Uno dei miei obiettivi è quello di riuscire a far sì che questa organizzazione prenda un po' piede, anche come strumento per la gestione nostra interna. Per quanto riguarda le collaborazioni stiamo sempre più attivando la collaborazione sia con Elsa Roma, che è l'associazione studentesca, ma anche con il Consiglio dell'Ordine di Roma, pian piano stiamo organizzando più convegni ed incontri, sempre su temi che riguardano il diritto e le nuove tecnologie. Bene, allora Massimiliano, grazie, molto molto interessante questa iniziativa di Acted Doc sul Legal Design. Seguite naturalmente Legal Hackers perché insomma ci sono molte iniziative interessanti e se volete essere giuristi del futuro e del presente dovete comunque continuare a così, essere curiosi su queste iniziative. Quindi grazie, grazie ancora. Grazie a te, un saluto a tutti, grazie Elia. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. Inonda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.